Abbiamo parcheggiato così lontano che sono ancora frastonato dal jet lag, devo dire, perché qui parcheggio proprio... A parte che mi so perso qua, vabbè, vabbè che è un periodo che mi perdo. Per esempio stamattina mi sono perso mentre facevo jogging ed ero sul tapirulà. Faccio tapirulà, perché ride signora? Non posso fare tapirulà? Non le sembro il tipo da tapirulà? Invece sì, io mi alleno perché Dio mi ha dato questo corpo e devo rispettarlo e... Dall'Enaldo. Per chi è sto panino? Che panino hai preso, scusa? Che panino hai preso? Un forest. Un forest. E vai, un applauso al giovanotto perché... Io... Io prendo la percentuale sulla rucola, sulla rucola abbiamo... Ogni artista sceglie un prodotto. Siamo pagati così, a prodotto, capito? C'è chi è pagato col brì, c'è chi è pagato col... Buonasera maestro. Si ricorda di me? Io sono... Dove ero arrivato? Scusa, ero arrivato allora. Quello del tapirulà l'ho detta, che mi sono perso... L'ho detto... Non è arrivato, veramente. È arrivato che... Ah, il tapirulà. Che io faccio il tapirulà perché per avere un fisico così chiaramente devo allenarlo. E io mi alleno perché mi serve un certo tipo di fisico, ma non per il lavoro che faccio. Non questo che sono due cagate, ma... Per l'altro lavoro, quello mio vero, mi serve avere un certo fisico perché io lavoro... Come posso dire, il lavoro, pochi lo sanno, io ogni anno partecipo a Miss Italia. Cioè non come concorrente, cioè partecipo al lavoro lì. Come posso fare a spiegare il mio lavoro? Il mio lavoro è tipo... Allora, quando voi sentite la frase Per te Miss Italia finisce qui... Ecco lì inizia il mio lavoro. Sono il premio di consolazione per le ragazze che vengono eliminate. C'è poco da ridere, Sex and the City. C'è poco da ridere, perché... Allora, come ve lo spiegate, no? Che la ragazza, quella che viene eletta Miss Italia, no? Con la corona, inizia a piangere, a dire... Perché sa che per regolamento non potrà avermi, capito? Allora, poverine. Alcune si imbruttiscono proprio per non vincere. Allora, come ve lo spiegate.